Ciao a tutti ragazzi, io sono TheRosalot e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo per la primissima volta nel mio canale, siamo su Roblox E ragazzi questo è un gioco davvero davvero interessante, non quanto Minecraft però Cioè diciamo che siamo lì perché comunque ci sono anche qui delle mappe davvero davvero belle Io oggi ho già cominciato a giocare un pochettino giusto per vedere com'è che funziona E ragazzi, sembra essere un gioco abbastanza divertente E vabbè nulla allora, iniziamo subito ragazzi voi lasciate tantissimi mi piace Così io capisco che vi devo portare altri episodi di Roblox se sono già caduto L'unica pecca, cioè diciamo che ci mette davvero davvero tanto tempo prima che respawno Però vabbè non è questo il problema Allora vediamo di fare anche qui, cioè vabbè anche qui Cioè perché su Minecraft non è che sono tanto bravo però qui anche peggio secondo me Vabbè comunque allora ragazzi voi lasciate tantissimi mi piace Lo so che ve l'ho detto già però non mi ho detto di iscrivervi al canale Perché siamo vicinissimi ai 3000 iscritti Ok vai così Beh sono livelli abbastanza semplici Soltanto che Minecraft è mille volte meglio anche perché c'è la survival Ci sono i server e tutto quanto Mentre Roblox sì è carino perché ci sono delle mappe fatte da gente comune Però cioè sono appunto soltanto mappe Mentre Minecraft diciamo che ci sono molte più cose Tipo la vanilla appunto, i server, le mod e tutto quanto Allora io sono nella stage 3 per cui devo fare Ecco Diciamo che anche questo gioco è un pochettino scleroso Proprio come Minecraft però vabbè Io sono fatto così sclero sempre Però ma tu sei come me ma che Vabbè se cadu Non devo parlare va bene Ho anche visto che ci sono altre mappe tipo Granny Però io non le so giocare quindi dopo ci proveremo E voi scrivetemi tutti i trucchi di questo gioco Ovvero come si gioca, come si fanno le robe, non so strane Vabbè avete capito Ok siamo già nella stage 4 e sto procedendo a meraviglia Adesso che l'ho detto guardate che cado Vabbè questa è una femmina quindi posso superarla È vero o no? Perché sanno tutti che le femmine sono una bene Già che appunto è caduta Grandissimo e noi ce l'abbiamo fatta Siamo già nella stage 5 Addirittura Cioè vabbè mi rompo così a quanto pare Quindi questi li devo saltare Ok ottimo Vabbè sembra essere anche questo abbastanza semplice Però siamo soltanto nella stage 5 su tantissime Cavolo ho fatto E mi rompo sempre in mille pezzi in questo gioco Vabbè fatto così Quella ragazza ha saltato sulla mia gamba Per cui adesso la raggiungiamo E non l'ho toccato vabbè grazie Anche qua ci sono i bug a quanto pare Però vabbè sembra logico Cioè ma guardate quanto cavolo è grande Vabbè comunque state tranquilli che fra poco cambiamo Ma voglio provarle Vabbè tutte no ma alcune Perché questa mappa è parkour Ma so che ci sono altre mappe tipo Non so ho visto dei video di pizze ad esempio Oppure video di grani appunto Beh ci sono tantissime modalità interessanti Che però io non saprei giocare E tu non mi spingere Quindi ragazzi voi ditemi Quale mappa provare E ditemi anche se volete un altro video di Roblox Magari no sulla prossima settimana Vabbè dipende tutto dal vostro supporto Ok ce la stiamo facendo Allora questa è una strada dritta Adesso se mi sbaglio io disinstallo il gioco E vabbè sono caduto Comunque ragazzi mandatemi l'amicizia Io mi chiamo come vedete qua sopra ClaudioDit03 E vabbè quindi nulla Cioè soltanto per avere qualche amico anche in questo gioco E basta rompermi mille pezzi come al solito Ultimo livello dopodichè basta Mi sono scocciato E mi sono rotto da capo Comunque mi piace che anche qua C'è tantissima creatività Proprio come su Minecraft E cavolo sto facendo Infatti ci sono queste piattaforme Ma Ma dove? Ma dove? Oddio ma Ma cosa sembra? Vabbè stavo dicendo E perché sto andando indietro adesso? Vabbè Comunque mi piace il fatto che anche qui c'è tantissima creatività Proprio come su Minecraft Infatti Cioè si può fare di tutto E basta Allora no basta Adesso esco Come si fa? Ah tra l'altro qui c'è la chat Che io non ho usato per niente Ciao mamma Sono su YouTube Ok Usciamo adesso Ci sono tutti gli altri amici Questo sono io Ma guardiamo come sono No non posso guardarmi Vabbè Usciamo Come si fa? Live game No ho sbagliato Live game Ok Allora Proviamo murder mystery Questa modalità è anche presente su Minecraft Per cui devo saper giocare Speriamo però che si possono fare le stesse cose di Minecraft Se non qualcosa in più Oddio Questa schermata è un pochettino inquietante 8, 7 Sì vabbè Dobbiamo aspettare Io sono su telefono Ah ok Vabbè Proprio come Minecraft Ovvero che c'è Innocente Sheriff E Marder E qua c'è un cane Vabbè Io voglio sapere come ha fatto ad avere un cane Per cui raga Voi dovete scrivermelo Qui nei commenti Perché io non sono molto esperto di questo gioco E Non lo so che cosa dobbiamo fare Nel frattempo Qui c'è la chat Uh ma questo è italiano Ma ciao Ciao Italia Ciao Italia Cosa ho scritto Italia Va bene Saliamo di sopra Vediamo Andiamo a caccia dell'assassino Buongiorno Ciao Qua c'è tanta gente Vedo Non so come funziona Questo c'è una cosa in mano Penso sia lo Sheriff Però il ma Oh ma tu sei come Un altro come me quello là Vabbè non lo so Camminiamo Ma pure tu Ma scusa ma sono tutti uguali in questo gioco Io comunque sto raccogliendo Io comunque sto raccogliendo tantissime monete Mi sto buggando da tutte le parti E non so cosa devo fare Spara a me Ma che Ok mi hanno sterminato Vabbè Vabbè Ok No niente Oh ma c'è anche spettate Quindi posso spettare tutti quanti Beh carino Davvero davvero carino questo gioco Dai Non è male Per niente male Vabbè Certo che rispetto a Fortnite È mille volte meglio Sia Minecraft sia Roblox Però Minecraft Miliardi di volte di più Vabbè Avete capito Oh ci sono gli scivoli Proviamo gli scivoli Penso che anche questa mappa Ho provato Però non del tutto Ok Siamo in una bolla E possiamo scendere dagli scivoli Io non sto vedendo praticamente nulla Però mi fido Ok Che figo Oh ma c'è anche run Quindi posso camminare Sit down Mi posso sedere Oh ma che figata Poi teleport to Main spawn Quindi spawn Ok Posso provare un altro scivolo Proviamo questo verde E vediamo dove mi porta Oddio ma quanto è lungo No ma è uguale Ma Scusa ma è lo stesso di Vabbè Non lo so Usciamo anche da questa mappa Live game Non lo so Direi di provare anche un'altra mappa Non lo so Giusto per Proviamo Raga io non lo so Cioè davvero Vabbè c'è granny Però non so come si fa Infatti ce l'ho già provato E non so come fare Non lo so Proviamo Despacito Obby Ma che Poi tra l'altro Vedo che c'è una percentuale sotto Quindi immagino sia la valutazione Per cui troviamo uno di valutazione alta Escape sponge Ah no vabbè Un altro parkour Pizza factory Dai questo lo vedo sempre su youtube E voglio provarci anche a fare qualche pizza Dai Ok siamo in una bolla Sembro un alieno praticamente Ok Questa dovrebbe essere la mia pizzeria Se non di qualcuno No è la mia pizzeria Boh vabbè non lo so Comunque fatemelo sapere Fatemi sapere tutto quanto Perché io non so praticamente nulla Cavolo è successo Ok vabbè non lo so Oh questi sono i miei soldi Il carrello Eh sì però io voglio fare una pizza almeno Dai come si fa C'è il garage Aspetta No allora faccio io le pizze Sono io Levati tu Levati tu Faccio io le pizze Levati Sì raga ma io non ci capisco niente Ma che cavolo sta succedendo Raga io non sto capendo niente Ma scusa ma sono io colui che fa le pizze Oppure mi devo soltanto sedere Ciao Elena Due tre Ah ma ci sono queste frecce Sì vabbè pure io sono scemo Però che non me ne accorgo Nobody Factory Ah ok Adesso si che è una pizzeria Anzi adesso si che è la mia pizzeria Posso comprare Non lo so You need 200 Robux Vabbè Basta E come funziona Raga io non ci so Oh ma c'è una pizza Ciao no Vieni a me Click your pizza to sell them Clicca la pizza per venderla Ok l'ho venduta Sì ma cosa devo Cioè devo cliccare soltanto le pizze Sì ma che noia così però Allora C'ho tanti cash Posso prendere un'altra cosa Vieni qua pizza Mi servi tu E poi posso comprare Tutto ciò che voglio Divento ricco Ok posso prendere tipo questo Bass Bass Cutter Tomato Other Non so forse sono i condimenti per la pizza Raga io non ci sto Cioè devo praticamente spingere sulle pizze Cioè questo che mi sta dicendo Ma che gioco è allora Vabbè E nulla usciamo anche da qua Proviamo adesso questo parkour Che vedo che è stato giocato da molti Anche se non ha una valutazione Così tanto alta Però proviamo Che è sempre una map parkour Ricordo Ma basta tutti questi annunci Ok posso Sì però ci sono quei cosi in alto Aggrappati Per favore Oh ma come che non mi posso Che cavolo è successo Vabbè Oh ma ci sono quelle cose in alto Posso toglierle Marshmallow hobby Vabbè proviamo marshmallow hobby Allora Siamo In un'altra map parkour Raga io Io giuro questo gioco è talmente incasinato Che non ci capisco niente Forse sarà anche vero Che lo sto provando da cellulare E forse su pc E forse è molto meglio Ma dove sono finito Ma basta Allora raga Io mi sono scocciato Adesso me ne esco Pure che questo video Non ha superato i 10 minuti Non me ne importa niente E vabbè Quindi ragazzi Questo era roblox Giocato un po' strano Vabbè ma come al solito Ormai Conoscete già come gioco Io ai giochi nuovi Per cui vabbè Nulla Scrivetemi Mi raccomando Qua sotto Tutto ciò che c'è da sapere Su roblox Perché io sono davvero Un nabbo E vabbè Nulla Qui da Doro se lotterà tutto Lasciate tantissimi mi piace Mi raccomando Arriviamo ai 50 like Per un altro video Su roblox E iscrivetevi al canale Con campanellina Detto questo Qui da Doro se lotterà tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Miaoo Iscriviti al canale